Siamo stati pionieri e non abbiamo mai smesso di immaginare il futuro. Continuiamo a cercare, a conoscere, a sperimentare. Lavoriamo ad un mondo sempre più interconnesso. E così aiutiamo la ricerca ad aprire nuovi scenari. Per GAR questo è il futuro. Abbiamo realizzato un'infrastruttura digitale con le migliori tecnologie. Un'autostrada digitale ad altissime prestazioni. Uno strumento prezioso per tutto il territorio, che unisce le persone, indipendentemente da dove si trovano. Abbiamo creato un ambiente collaborativo all'avanguardia. Una rete che sostiene la nostra comunità scientifica a livello internazionale. Ovunque si trovi a operare. Abbiamo connesso in fibra ottica anche numerose scuole, fornendo uno strumento essenziale per una didattica innovativa. senza dimenticare l'importanza di condividere le nostre competenze. Così, anche grazie a noi, migliaia di ricercatori, docenti e studenti competono e collaborano ogni giorno con il resto del mondo. E noi continuiamo a costruire una rete pensata a su misura per i nostri utenti. Così, ci sentiamo parte dei loro progetti e dei loro successi. iscrivitiai.